E si ragazzi, siamo arrivati ai 100 iscritti Mi viene da piangere, se ne ha... che succede? Mi viene da piangere, grazie tutti per i 100 iscritti, grazie E la prossima tappa 50, wow Ragazzi, appena arriverò ai 50 iscritti, vi farò vedere come edito i video Sì, perché ho la nuova applicazione per editare i video Intanto qui, novità, che sta succedendo? Strumbleguisi, intanto qui aggiunge ogni... Ma vabbè, intanto qui mi lagga come dopo domani, veramente Giusto, ma io dico, ma perché c'è sto minonuno? No, 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 ho cambiato il tema, vabbè Ah Ma io ci gioco subito Ok, space drop Let's go È il momento Ecco il lagga No, c'è la gente che dà fastidio Mannaggia la gente 1, 2, back of my shoe 3, 4, back of the more 5, 6 Sei un infame se vieni qui a casa mia No Sei un infame Gigoto Ma dove ha spinto? Meno mai che non sono caduto Seconda partita Sempre se non vengo lì No, perché al cielo? Allora mi prendo Il trampolino Oh no Riusci a restare in alto Sei un infame, no Se voi venite a fa... Ma no Ma la concentrazione Questo video È a maxi È al massimo Vai che è caduto L'omino invisibile Se... Ma no È complicato È complicata la situazione Signore e signore Ne manca solo uno Ne manca solo uno Let's go In finale ce ne andiamo E ok Space drop Allora Io me ne vado sul trampolino Io me ne vado sul trampolino Me ne vado sul trampolino Trampo Ci go Ci go Ci go Mi ha dato Mi è volato un calcio Ma è caduto Ed è brutto GG Allora io sta mappa Proprio mi metto un'ansia Ma di quelli pazzeschi No Ti ho visto È complicato In due Uno v uno No No siamo in tre Che dico Cioè Mamma mia Oh e quando so che ha Adesso sto Strumbleguis Ma no Mi viene l'ansia Mi viene l'ansia Allora Boeing Terra Sto sudando Sto Sto Suda No Vattene Uno v uno Vado Questa è una battaglia Epic A parte che mi sta venendo l'ansia Sul trampolino Sul trampolino Qua 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 Boeing Allora vado di qui Vado già Sto giocando Da pro player Sto giocando Tu te ne vedi andare È caduto? No No Mi sta venendo l'ansia Questa partita Allora Vai Ok Di qua Raga è veramente Durissima Questa partita Sempre No Davvero era impossibile Ma era impossibile Quello era Da Un altro livello Vabbè Sì No Non voglio scioppare Sarà per la prossima Per questa partita Dai Ok Spingo round Guarda facciamo la partita Ma male Vai Jump Ok Jump Jump Perché ho fatto Ahia Una botta Mi son preso Sei un infame Dragone Si Sei un infame Dragone Sei un infame Oh Sei un infame Dragone Guardate Pugno No Eee Cioè Vabbè Raga No Ma che succede Va bene Va bene Mi però Non manco posso fare Una partita In santa pace Già sto Strambo Cioè Oggi è proprio Strambo Non mi vuole Fa vincere Vabbè Ora io ti faccio vedere La mia Incredibilità Ti faccio vedere Chi è che comanda Salto Salto Pam Sei il primo? Cerchiamo di non fare Cavolato E niente Mi hanno recuperato Porca E' vero E' vero No Ok Vai Sì 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 No Sbaglia No 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 Prima Ma che sarei troppo Amongo 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 Sei pugno di fo Non cadere Non cadere E' un bambino E' un bambino E' un bambino Amongo 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 Amo Amongo Siamo pronti Let's go Let's go Non mi dovete Io dico Perchè 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 My user Call No non puoi entrare Il video Il video Ok Ciao Ok Ciao Gigi Gigi Ma no che epic Che epic Perchè ho lanciato la banana Ah ma questa è la finale Oh no No Se va Che ha vinto Aspetta che ha vinto Vabbè Gigi Gigi Dai l'ultima L'ultima partita E poi mi tocca registrare Si è E ti do Di mannaggia E' tutto Ok Perfetto A palla napoletana Si vabbè ma già si qualifica tutti Ma che spica Se vabbè non riesco manco a fare trick Allora Non spingete Mannaggia Non doveteci Ok forse ce la faccio Perchè dovete da Perchè dovete darmi i calci Sì Ma boh Vabbè raga io ci ho provato Ma se mi danno calci Pugno Bracci Banane Playstation Polme Nucleari Di tutto Io che ci devo fare Vabbè Se non vi sto totalmente al dibattito Potete lasciare Un mi piace Iscrivetevi al canale E attivate la campanella Gamer è tutto Ciao ciao